Pochi giorni al via dell'ormai storico torneo di Fabio organizzato anche quest'anno come ormai da tradizione dal Nepezzano. Sì, siamo alla 34esima edizione, è dura ma siamo ripartiti perché c'era stato un fermo un anno, il torneo purtroppo si è fermato, noi da due anni l'abbiamo ripreso. L'anno scorso siamo ripartiti con sei squadre, quest'anno ne siamo a nove, quindi il torneo aumenta e comincia a riprendere il vecchio standard e speriamo di arrivare alle 16 o 24 squadre che erano negli anni precedenti. Prima è gara, fischio d'inizio giovedì 31 maggio, per poi concludersi quando? Allora sì, la prima partita è il 31 di maggio con giocherai San Nicolò, squadra detentrici del torneo e la finale sarà il 9 di giugno. Si gioca al Dino Besso di San Nicolò a Tordino? Sì, sempre al Dino Besso, tutte le partite vengono fatte al Dino Besso, volevamo farne qualcuno a Nepezzano ma il campo non ci permette questa situazione. È un torneo il di Fabio che storicamente anche per la categoria rappresentata è un torneo che ha messo in luce ottimi giocatori, anche per osservatori, emissari di società che vengono a visualizzarli. È comunque un buon torneo, una buona vetrina. Quest'anno qualche procuratore mi ha mandato dei messaggi privati chiedendomi del torneo e quant'altro, quindi sta riprendendo una visibilità a livello regionale. Qualcuno viene anche da fuori, quindi anche da fuori regione, quindi è buono per le società che partecipano, per i loro giovani, per metterli in vetrina. Dunque invitiamo ovviamente tutti gli appassionati sportivi a seguire questa edizione del torneo di Fabio perché è anche giusto dare visibilità e considerazione ai settori giovanili. Sì, sì, io spero di confermare il pubblico della scorsa edizione che è stato veramente numeroso, non ce l'aspettavamo. Comunque alla fine vedere dei giovani che giocano ancora per passione, ancora per piacere è bello anche per i genitori e per gli appassionati di calcio.